Ciao a tutti, benvenuti in questo video gameplay ASMF Oggi andremo a creare insieme un sim Fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere per continuare con altri episodi Bene, iniziamo Adesso dobbiamo scegliere un'aspirazione Io direi di mettere il tratto amore e anima gemella Come secondo tratto Andrei a scegliere Testa calda E come terzo Buon costaia E per ultimo Goffa Bene, i tratti sono completati Adesso passiamo a creare il sim Per prima cosa partirei dai capelli Li farei color cioccolato Magari con un'altra conciatura Sempre color cioccolato Andiamo a cambiare le sopracciglia Queste sono perfette Sempre dello stesso colore Passiamo agli occhi Vorrei un taglio di occhi un po' particolare Questo mi piace Gli occhi verdi Adesso passiamo al naso Questo va bene Le labbra Anche qua Cerco delle labbra un po' particolari Un po' carnose Tipo queste Passiamo al trucco Per gli occhi Opterei per un colore chiaro Così è più carino L'eyeliner Questo Bello così E il blush Più chiaro Passiamo alle labbra Un rossetto Sempre di un colore chiaro Questo mi piace Per quanto riguarda il trucco del viso Direi che siamo a posto Passerei ai vestiti Magari un bel vestito Qualcosa di corto Oppure questo qua Se questo mi piace Andiamo a cambiare le scarpe Queste Queste sono belle Il fisico Direi di cambiarlo un po' Un po' più in carne Adesso passiamo al look Degli abiti formali Partiamo dai vestiti Vuole qualcosa di elegante Questo è carino Così mi piace di più Le scarpe Queste Colore Nero Così è elegante Passiamo alla conciatura Volevo qualcosa di raccolto Così Passiamo al trucco La serata Questo è molto bello Con tutti i brillantini Le labbra Un colore un po' più acceso Per la sera Così Gli orecchini Questi qua sono molto belli Una collana La mettiamo uguale agli orecchini Look sportivo Una maglietta Questa è molto carina Così Dei pantaloni Più lunghi Così Le scarpe Direi queste Per i capelli Un capello raccolto Una coda Per un cioccolato Un po' di rossetto E basta Così Notte Un bel pigiama Questo qua Mettiamo Mettiamo queste ciabatte qui Carine Con il coniglietto Grigie Capelli Sciolti Così Da festa Togliamo subito gli occhiali E mettiamo un vestito Questo qua Rosso Delle scarpe Queste Perfetto I bracciali mi piacciono Quindi Lasciamo i capelli Una conciatura Semiraccolto Sempre Dello stesso colore Passiamo al trucco degli occhi Così Si Mi piace Adesso Mettiamo un rossetto Lucido Così Passiamo Al costume da bagno Direi Due pezzi Di questo colore qua Senza scarpe Passiamo ai capelli Così Senza trucco Perché Essendo caldo Passiamo Al clima caldo Direi Una maglietta Questa è carina Però Così Magari Una gonna Questa Mi piace C'è La stampa floreale Un paio di sandali Così I capelli Belli così Sempre scuri Adesso Passiamo al clima freddo I capelli Li lascerei Sciolti Ma mossi Ecco Questi vanno bene Così Passiamo agli abiti Una giacca Così Pantaloni Attillato Pelli Degli stivali Questi Passiamo al trucco Per gli occhi Così Le labbra Un colore chiaro Così Ti chiamo un nome Elena Galli Bene Fatemi sapere Se questo video vi è piaciuto E Anche se Volete vedere altri episodi Su questa serie Dove andremo a creare Un altro sì Oppure Se dobbiamo andare avanti Con lei Per un po' Aggiungere Nei futuri episodi Altri personaggi E se sì Magari Datemi qualche idea Commentando qui sotto Come vorreste Un personaggio Bene Per questo video È tutto Spero vi sia piaciuto E che vi abbia rilassato Vi aspetto Per il prossimo video Un saluto Da Camilla ASMR Merde Merde Grazie a tutti Grazie a tutti